Indubbiamente è una partita difficile come tutte le partite dei playoff, è indubbiamente ancora più difficile giocare contro una squadra che alla fine ti conosce perché già hai già fatto due partite di campionato, quindi insomma ormai le due squadre si conoscono abbastanza bene. Sono però un attimino insoddisfatto della prestazione dei miei giocatori, soprattutto dell'attacco perché l'attacco ha avuto diverse opportunità di segnare, di chiudere la partita in maniera più facile, di non consentire loro di restare troppo in partita e invece non l'ha fatto, quindi questo per me è una cosa importante su cui lavorare. Catania cercheremo ora di studiare, di vedere come affrontarla, lo prepareremo come abbiamo sempre preparato tutte le partite nel corso della settimana. Soddisfatto della difesa sicuramente, non era facile perché comunque loro hanno un gioco molto vario, hanno delle corse molto fisiche, hanno un buon gioco di lancio, però tutto sommato insomma siamo riusciti ad adattarci man mano. Più volte il loro attacco ha cambiato faccia e noi abbiamo dovuto cambiare il modo di giocare anche in difesa, però i ragazzi hanno un'esperienza su diverse difese, quindi siamo riusciti a fermarli a prescindere dal gioco che facevano. So che Catania sarà la squadra che noi affronteremo domenica prossima, però abbiamo tutto il tempo per studiarci filmati, abbiamo una difesa molto varia, quindi non dobbiamo installare niente di nuovo, dobbiamo solo fare le nostre cose e farle bene.